Aria Stile, Music Fan, Hotel Royal di Sanremo, Francesco Salvi, benvenuto nell'area più esclusiva del festival di Sanremo. Infatti è escluso che si possa entrare, bisogna pagare in questo posto bellissimo, in questo albergo bellissimo, in questo posto bellissimo che a Sanremo sono commosso. Ma sai che io riflettevo sul fatto che tu hai un record a Sanremo, un record che non verrà mai, 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 mai battuto. Oh la miseria, cos'è? Il titolo più corto, la canzone è il titolo più corto, era il 1990, la canzone era A. Sei un grande, sì, A, infatti è uscito il 45 giro di quell'anno lì con A, la facciata A, e B sulla facciata B, per essere precisi. Diciamo che quelle erano quelle follie creative che comunque creavano, come dire, quel personaggio. Poi parlando di quel festival di Sanremo tu portasti sul palco un'icona di quel periodo, Papa Uini. Papa Uini, ma è ancora in giro mi sembra, è qui a Sanremo adesso Papa Uini. Addirittura? Sì, lui faceva la versione rap, rap rasta, rap pede e un po' tutto insieme. Grande, grande il nostro amico Papa Uini. Dicevamo anche appunto prima fuori onda di quanto è cambiato il festival di Sanremo in tutti questi anni e di come è cambiato proprio anche tutto quello che sta attorno al festival di Sanremo. Tutta quella gente lì non c'era, non era ancora nata. Non c'era? Pensa, sì. Hai visto? Il modello nuovo è bello. No, è sempre stato un bellissimo venire a Sanremo. Io tra l'altro sono venuto la prima volta sulla spinta di spostare una macchina che aveva fatto un boom e allora sono arrivato direttamente lì. E c'era gente che non ci voleva, che diceva no, quello lì non può venire. E invece io loro ho detto una frase, l'avvocato della casa disegrafica diceva facciamo ricorso e io ho detto no. L'ho guardato dall'alto in basso e ho detto no, se non abbiamo i titoli per andare, staremo a casa. Ma sei scemo? E come sei scemo? Vuoi mica andare che poi non mi vogliono eccetera. Poi infatti avevamo ragione noi. Allora ho guardato e gli ho detto ma sei scemo? E lì si è messo a piangere. Un avvocato di buoni sentimenti. Fu un periodo bellissimo e ci divertimmo tantissimo. Tra l'altro adesso abbiamo fatto non... Tu volevi andare lì. Ah, volevo andare proprio lì. Non un remix della canzone perché è già stata fatta non da me ma da altri. Ma il sequel. Sarebbe la macchina 2 come si diceva una volta, la vendetta. Perché adesso io arrivo io, sento me stesso, parlo con me stesso, penso è una cosa anche psicologica di 30 anni fa. Dico ma io ho già sentito questo qui, conoscevo il suo papà. E allora mi parlo da padre a figlio concludendo che è elettrica, che non è più diesel perché adesso c'è l'elettrica. C'è quella elettrica. Il mondo cambia, perché non cambiamo anche noi, soprattutto la biancheria intima. E magari fra un po' andando avanti non c'è più neanche il gas, non c'è più neanche il metano, ci saranno i sassolini oppure delle cose molto ecologiche tipo pedate sulla targa. Cioè, pedate così e la macchina va. Più ecologico di così non si può. Sarebbe al massimo. Comunque quello che è bello è proprio, come dire, questa voglia di divertimento. Ma poi anche appunto c'è da spostare una macchina, una canzone che nacque davvero in la maniera più casuale possibile, con il maestro Mario Natale, veramente quella follia creativa. Ma scusa, dimmi, visto che sei tu, che fino ha fatto il 50 euro che avevo in tasca ieri? Guarda, sono quei misteri. A Sanremo succede anche questo. Sì, la cosa fu bella, perché stavo facendo un programma mio, che era il Mega Salvi Show, che c'è stato necessario un anno per registrarlo tutto. E poi andò in onda, la prima puntata mancava due settimane e non c'era la sigla. Tra l'altro era un programma che comprimeva tutta la giornata televisiva e in 12 minuti c'era la fiction, c'era il telegiornale, c'era il quiz, eccetera. E mancava la sigla. La sigla naturalmente era 12 secondi, perché non ci stava tutta. E allora mi ha mandato uno che ho visto, non faccio il bambino, un tangioletto con i capelli ricci, e ho detto, ma tuo papà dov'è? Perché è mio papà? Non sei nemmeno tu l'arrangiatore. Era lui, era Mario Natale. E abbiamo fatto quel pezzo lì che è saltato fuori, praticamente dopo un'abbondante cena, quelle cose che mi piacciono da matti, fine autunno, non freddo, così piacevole, in un verso a mangiare. Abbiamo mangiato, bevuto, tutti felici, siamo tornati indietro, era mezzanotte, alle tre era già finito il disco. E quella è la cosa bella. È venuto fuori, boom, così. Guarda, io ricordo comunque, diciamo che era un periodo in cui il Festival di Sanremo comunque era un po' più serioso, posato, eccetera. Sì, sì. I versi degli animali, sul palco dell'Ariston, credo che sia qualcosa, passato alla storia, non so in quanti. Nel senso, tu mi dici che ci saranno in tanti che canteranno come dei cani, ok. Però tu sei riuscito a far cantare anche... Ma infatti l'idea era quella, era nata così, con tutti i cani che ci sono in giro, facciamo cantare gli animali veri. E poi mi ha detto, forse andare a Sanremo dicendo i cani, ma io te ne ho un po' tutti, non solo i cantanti, cani, tanti. Allora mi ha detto, con tutto quello che si sente in giro, ma era un periodo anche, sì, molto, molto serio. Il primo anno e il secondo anno, tra l'altro il primo anno non si era neanche all'Ariston, si era a Palafiori, e c'era una specie di struttura con tutti questi orchestrali sparsi, vestiti nero, sembrano delle cozze attaccate agli scogli, ed è stato molto divertente. Tra l'altro la follia del secondo anno, del 90, era che a un certo punto il festival cominciava il martedì, o il mercoledì. E sabato viene un produttore della televisione e mi dice uno che guardava in basso, tipo Travaglio, che parla e guarda qui, il capezzo, è una cosa che fa un po' impressione. E mi dice, Francesco, te la sentiresti di fare un programma perché è saltato Emilio, c'era Emilio in quel periodo, e il sabato, tutte le sere, c'era un programma e il sabato Emilio. E dice, in tre giorni? Mi ha detto, sì, sì, facciamo, c'era lì Lauzi, il grande Lauzi Bruno, che io prendevo sempre in giro perché era piccolino, e allora dicevo, Bruno, Bruno, vieni qua, ma cosa gridi? Ah, sei lontano? No, sono arrivato, ah, ti vedevo così piccolo, sembrava lontano, un grande cantante molto spiritoso. E allora abbiamo fatto una cosa in cui io dovevo impedire che un maniaco uccidesse tutti i cantanti di Sanremo e pian pianino li ha ammazzati tutti. Cioè andavo a trovare Reitano e gli altri, dicevo, stai attento ad uscire dalla camera, perché? Eh, perché c'è un maniaco, eccetera. Allora suona il telefono, lui risponde, pronto, morto. L'hanno ucciso per telefono. E alla fine si scopriva che questo maniaco omicida era lo stesso Lauzi, che diceva, ben i ragazzi sono 23 anni che non mi invitano al festival. E allora, e l'abbiamo girato giorno per giorno, si girava mezz'ora. C'erano ospiti tipo Kit Creole e le sue ragazze, c'erano dei personaggi fantastici. Tutto per dire che era più improvvisato allora, pur nell'appaludamento, perché non si è la prima cosa che ho visto il primo anno che sono andato, o secondo, c'erano nel camerino Riccardo Fogli che spegneva le luci. Ci sono spenti, Riccardo, perché ha spento la luce? E lui mi diceva, è perché, sai, non ho speranze di vincere. Invece aveva vinto 5 anni prima quando le luci erano accese. Si vede qualcosa e stiamo brancolando nel buio. Qualcosa si vedranno delle... Ecco, sono tornato, grazie. E Riccardo, perché lui ha schiacciato il bottone senza accorgersi, entro in camerino e vedo uno di spalle, messo di spalle, posso andare fino lì? Mi si inquadra, così, era lì così e faceva... Dico, mi hanno messo in un reparto pazzi. Invece era lui che provava la voce, ma controllo lo spigolo e nel corso del festival, una settimana, l'ho sempre trovato negli spigoli. Andava dunque se ci fosse uno spigolo tipo qua, così anche piccolo e faceva... Anche l'Isola dei Famosi dove è stato recentemente, aveva tagliato due palmi e si metteva in mezzo una palma e l'altra così... Perché anche i grandi cantanti hanno delle manie, lui doveva provare la voce ed era una cosa impressionante. Basta. Senti, io non posso che ringraziarti, io starei ad ascoltarti davvero per ore perché questi aneddoti sono meravigliosi. Ma io tra l'altro, come di... Chiuderei... Che bella canzone. Ti ricordi il titolo della tua terza canzone? Certo. Com'era? Era così, dammi un bacio. Bravo. Ah! Scherzo! No, volentieri. Però devi saltellare come saltellava Baudo con me quella volta là. O altrimenti... Lo facciamo fuori onda quello e ti direi, visto che Sanremo è un po' particolare, ti chiuderei con il titolo della quarta canzone invece del prestito. Sta attento! Grazie mille, Francesco Salvi. Grazie a tutti voi, a prestito anche, basta che me lo hai dato indietro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.